Musica Amici di Atisport 24 bentornati Nuova puntata di 2 metri la palla noto vista da vicino Torniamo oggi ad occuparci della Roma-Visnopa Formazione che sta dominando a punteggio pieno il girone sud del campionato di Serie 2 E per parlare dei leoni allenati da Alessandro Calcaterra E con noi il centro boa giallorosso Alessandro Agnolet Ciao Alessandro, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito Ciao Andrea, grazie a te per l'invito Alessandro iniziamo proprio dal vostro strepitoso percorso in questa prima parte di torneo Ti chiedo che bilancio si può tracciare di un girone d'andata che è a dir poco stratosferico per la Roma-Visnopa Assolutamente il bilancio è positivo Siamo riusciti a raggiungere uno dei obiettivi infrastagionali che ci siamo posti Ovvero arrivare alla prima parte del campionato a piene punti Siamo stati bravi Riusciamo a giocare bene insieme Nonostante la squadra è stata molto rinnovata rispetto all'anno scorso Questo grazie anche alle direttive del mister Alessandro E comunque anche di Alessandro Amato E comunque tutto lo staff E giochiamo bene insieme E comunque penso che siamo una bella squadra Possiamo ambire a tanto Sicuramente il bilancio è molto positivo Certo E settimana di pausa Però ovviamente anche in casa della capolista non ci si è fermati Mister Calcaterra vi ha messo sotto torchio per non allentare la tensione E per mettere comunque fieno in cascina E sistemare ancora quei piccoli dettagli che non funzionano Ti chiedo quale tipo di lavoro ha svolto la squadra durante questa sosta? Certamente settimana di pausa Solo potremmo dire tra virgolette Tanto dal campionato Anzi è stata una settimana molto più intensa Alleamenti molto più intensi Molto più lunghi Sia in palestra che in acqua Abbiamo spinto molto Per non perdere quello che era il ritmo che abbiamo avuto Nella prima parte di campionato Ora è importante comunque continuare i colpi del giusto È importante continuare con i ritmi alti che abbiamo tenuto nel primo campionato Su questo siamo stati bravi noi giocatori Comunque a non abbassare la guardia In questa settimana di recupero Ma anche e soprattutto lo staff che ci ha fatto allenare bene Con elementi ben svolti, completi Da tutti i punti di vista E adesso si ricomincia Siamo pronti per ricominciare Prima però di andare sulla più stringente attualità Ti sottopongo un po' di dati Facciamo il gioco dei numeri Ad ulteriore testimonianza Veramente di quello che dicevo all'inizio Un cammino da schiacciasassi Degno del Manchester City Quando domina in Premier League Undici vittorie in altrettante uscite Miglior attacco di tutta la Serie 2 Difesa meno battuta del Girone Sud La metto quasi a mo' di paradosso Questa Roma-Visnova Ancora margini di crescita Assolutamente sì Siamo comunque una squadra Per quanto abbiamo avuto risultati molto buoni Siamo comunque una squadra molto giovane Sempre Siamo sempre a margini di miglioramento Soprattutto da anche noi ragazzi Che veniamo dalle giovanili Assolutamente Nonostante la nostra Giovane età di media Comunque siamo una buonissima squadra Completa sotto ogni punto di vista Sotto ogni ruolo Ognuno di noi può giocare tranquillamente Può comunque fare il suo E ha libertà anche di esprimersi Grazie comunque alle obiettive di Alessandro E anche come spesso dice lui Comunque può fare tantissimi cambi Perché ognuno di noi Non è al di sotto di quello che è Il livello appunto E io questo volevo fartelo sottolineare Dico può fare tantissimi cambi Dico tantissimi cambi di spessore Assolutamente sì Siamo una squadra veramente completa Abbiamo una rosa ampissima E appunto per questo Ci permette anche di tenere il ritmo Molto alto nelle partite Ci permette di spingere molto E questa è assolutamente Una bellissima cosa E anche un pregio della nostra squadra Faccio il ruolo Anzi più che fare Mi diverto a interpretare Il ruolo dell'avvocato del diavolo Quanto avvertite il bisogno Di tra virgolette Soffrire Di giocare qualche partita Nella quale dovete sudare Per vincere Anche in funzione poi Di quello che sarà Il momento della verità Assolutamente Comunque quelle partite In cui si soffre In cui bisogna sudare In cui si gioca punto a punto Nonostante magari Sembrano le più difficili Sono anche le più divertenti Quelle che sono anche Più piacevoli da giocare Quelle per cui ci si arriva Proprio tutta una stagione Tutto un anno Se non di più Per poterle giocare Per poter divertirsi A giocarle E noi siamo pronti Comunque cerchiamo Di farci trovare pronti In queste partite Qualunque sia l'avversario Qualunque sia il campo Noi non sottolitiamo nessuno Andiamo e giochiamo E se poi la partita Si metterà comunque Punto a punto Si giocherà Sarà più difficile Noi ci saremo Trovare pronti E cercheremo Di ambire sempre al massimo Ci vuole ancora Un girone Mancano undici partite Però Per come viaggiate Il primato E l'obiettivo reale Realistico La qualificazione Ai playoff Dico che È già quasi matematica Davo uno sguardo A quelli che saranno poi Gli avversari Del momento della verità Come valuti Ad una Prima impressione Il rapporto di forza Con il girone nord Assolutamente I due gironi Sono comunque Abbastanza equilibrati Sono il livello Abbastanza alto E come ho detto prima Comunque noi Non ci impariamo Per gli avversari Che ci troveremo davanti Nel girone nord Comunque ci sono Qualche squadra Comunque di Abbastanza spessore Avevo visto anche Il Bologna E anche il Torino 81 Per esempio Con cui ci siamo scontrati Anche l'anno scorso E noi adesso Senza pensare A squadre che verranno dopo Pensiamo partita dopo partita A quello che è il nostro obiettivo Metteremo la testa Partita dopo partita Partita adesso Questo weekend Dall'acqua chiara E poi Spreggiamo di andare Il più lontano possibile E di affrontare La Possibile Certo E per La vostra corsa Per sperare di Arrivare il più lontano possibile Riprende da Come hai detto tu Il confronto di sabato Alla scandone Contro L'actis Acqua chiara Formazione che Tra le muramiche Ha fin qui Messo a referto Un cammino e greggio Che tipo di match Ci aspettiamo Aspetta Non ti ho sentito Che tipo di partita Ci aspettiamo Contro l'acqua chiara Ok Allora Sicuramente L'acqua chiara È una squadra Che non va sottovalutata Una squadra Anche essa Molto giovane Che vede il suo punto di forza Soprattutto i contropiedi È una squadra Che subisce molti gol Ma ne fa anche molti Abbiamo visto anche A squadre Con cui ci siamo giocati Le partite Anche noi stessi Colcano e Terinavoli Comunque È stata una partita Molto tesa Noi andremo in acqua Senza sottovalutare L'avversario Andremo in acqua Mettendoci il massimo Con la grinta La più alta possibile E faremo La nostra partita Dal punto di vista tecnico Non credo Cambieremo molto Ma questo Non posso dirlo Aspetta a Sandrone Decidere Comunque Aspetteremo sabato Aspettiamo E vogliamo Soprattutto di partire Per continuare Quello che è il nostro cammino Va bene Siamo così Al termine Di questa chiacchierata Ringrazio Alessandro Agnolet Per averci fatto compagnia E do appuntamento Ai nostri spettatori Per la prossima puntata Ciao Alessandro Grazie Ciao Grazie a te